Io vorrei che i fisici oggi capissero che è possibile fare un riscontro di tutto quello che accertano, seguendo la via di ricerca che dal particolare cerca di risalire alle leggi generali, che esiste anche la concreta possibilità, che è quella espletata dalla fisica modea, di seguire il percorso inverso che dal generale porta in giù, verso la deduzione del particolare. Infatti oggi si ignora che nel preciso momento in cui due secoli or sono i fisici decisero di adottare unità di misura che fossero all'interno del sistema metrico decimale, imposero questo sistema con tutti i cicli e le relazioni che esistono tra il ciclo intero dieci e la sua unità, imposero questo ciclo come la legge generale che regola tutte le unità della fisica, almeno quelle che da quel momento in poi furono determinate, ossia il metro, il chilo e il secondo. Questo sistema MKS che poi da tre unità fondamentali è passato a sette unità fondamentali, aggiungendo i flussi e l'intensità della luce, tre flussi, quello dell'energia, la cui unità è l'ampere, quello dell'unità termica in cui è il Kelvin, il grado Kelvin, il valore unitario, quello della molecola in cui è la mole. Il valore unitario ha questi tre flussi dell'energia reale misurata in ampere, quella termica misurata in Kelvin e quella molecolare misurata in moli, a questi tre flussi in linea, aggiunsero anche il valore diciamo così preso di punta come l'intensità della luce. Ecco queste sette unità fondamentali sono quelle poi da cui sono derivate tutte le altre del sistema internazionale dei pesi e delle misurazioni. Questo sistema generale è posto davanti a tutte le unità di misura osservate poi nella realtà e se esistono cicli interi a questo punto che realmente esistono e sono regolati da queste unità che sono obbligate a seguire il sistema metrico decimale proprio per convenzione, allora non è possibile che esistano unità derivate che siano intere e non abbiano lo stesso contenuto generale e non abbiano lo stesso contenuto generale di esistere in un ciclo unitario composto di dieci decimi. Ecco se si adotta questo sistema è possibile conoscere che cosa manca per esempio ad un numero, il numero di Avogadro che ottenuto attraverso misurazioni ha portato per la molecola a un valore uguale a 6,0 e rotti. Cosa sono quei rotti? Sono giusti quei rotti laddove noi abbiamo valori unitari? Se un valore è unitario, cari amici, è intero, non ha rotti. Di conseguenza se noi troviamo che l'unità della molecola è data da 6,0 e rotti per dieci alla ventitré o alla meno ventitré adesso la dimensione importa poco. Ogni molecola ecco vedete questo sei non ha alcun significato ma può essere riscontrato dal generale verso il particolare. In che modo? In un modo assai semplice. Tutta la presenza insiste in un piano di presenza. Quando il piano ha il lato 10 l'area della presenza è 100. Ora è evidente che 100 è espresso come un valore che esista tutto quanto insieme. Ma se noi dividiamo questo valore 100 per una lunghezza dicendo che è 100 volte 1 al quadrato. 1 al quadrato è un'area? Bene, allora il quadrato 100 è 100 volte l'area 1 al quadrato. Quindi io posso avere 100 in linea di valori unitari al quadrato, ossia 1 per 1. Vedete? Vedete il 100 diventa un valore in linea esso pure. E allora che cosa succede? È evidente che questo 100 è totale, comprende tutte quante le dimensioni, anche lo spazio e il tempo. Se noi vogliamo dividere lo spazio, considerando che tutti i versi dello spazio, che ha tre linee, x, y e z, in cui ogni linea può essere percorsa, vai e vieni, ossia in due modi, tutti i versi sono 6. Allora, è giusto fare 100 diviso 6? Sì, è giusto. E il risultato dove arriva? Arriva a 16 con il resto di 4. Ora, amici, se io vado a dividere ancora per 6, sto dividendo la stessa cosa di prima? No, perché prima io dividevo il 100. Quello che ora io vado a dividere come il resto sono le quattro dimensioni della realtà. Ma io le quattro dimensioni della realtà le ho sempre presenti, ossia nel valore 100 quattro di queste dimensioni sono condivise in tutto il flusso lineare che è 96. E allora 96 diviso 100 diviso 6 fa esattamente 16. E 16 è il valore di carica della realtà. Quella data da 4 per 4. Quella data da 10 elevato a 4 diviso per 5 elevato a 4. Il valore è esattamente il 16. Tanto che se io faccio l'operazione inversa e il 96 non lo divido per 6, ma lo divido per le 16 dimensioni della realtà, ecco che io ottengo il 6 preciso della molecola, ossia i 6 versi. Ecco, quando io eseguo il controllo incrociato, ossia procedendo dal generale verso il particolare, di quello che unitariamente parlando è ciò che mi porta alla dimensione della molecola, allora io mi accorgo che io giungo esattamente al valore 6 se continuo a conservare intatta la realtà con quattro dimensioni. Perché questa realtà io non devo dividerla. Una volta che ho diviso 96 che è tutto il flusso della realtà 4 in 100, io ho diviso il flusso in linea e è solo il flusso in linea che io devo dividere. Se lo divido per 16 ottengo esattamente le 6 che sono i versi che compongono tutto lo spazio a tre dimensioni e il 6,0 e rotti del numero di Avogadro dimostra che è un valore che è buttato lì come trovato nei calcoli, buttato lì senza alcuna ragione, senza averci ragionato sopra attraverso un ragionamento che provenga da ciò che noi sappiamo per certo. Quando noi abbiamo tutta quanta l'energia, che cos'è l'energia? La possibilità di determinare lavoro, perché l'energia è una condizione in cui c'è quiete totale, non c'è movimento. Praticamente ci sono le tre componenti, i tre versi positivi esattamente controbilanciati dai tre versi negativi e ogni verso quanto deve avere per avere tutto, per avere tutto lo spazio deve avere 10, deve essere il movimento 10 di un decimo suo, quindi devono esserci undici decimi e se noi consideriamo le unità in base ai decimi, ecco i decimi sono undici, ce n'è undici per ciascuno dei tre versi in positivo. In tutti e tre i versi in positivo il totale è più 33, c'è meno 33 nei tre versi in negativo. Ora, se io considero tutto, parto da meno 33 e arrivo a più 33 e vale una crescita di 66. Ecco, 66 è il valore pulito, ma quando noi seguiamo le deduzioni di Planck, che ha determinato la quantità dell'energia, ecco che egli non è arrivato al 66 pulito, è arrivato a un 66 e rotti, a una certa qua dimensione, in cui quei rotti centrano come i cavoli a merenda. Vedete, cari fisici, noi le leggi generali da cui fare i controlli le abbiamo, siete stati proprio voi a introdurle queste leggi e allora perché ve ne dissociate? perché poste tre dimensioni per lo spazio e una dimensione per il tempo, voi, dando retta Albert Einstein, dite che la velocità assoluta non è 3 a 1, no ma è 2,99 a 1, è quella della luce che è 2,99 a 1 e non 3 a 1, ma vi rendete conto o no che nella velocità della luce considerata da Albert Einstein come il valore dell'invarianza non esiste in C2 quel valore invariante 9 che è il 9 invariante del sistema decimale? I calcoli si possono verificare con il nonio che mette a confronto una struttura regolata dal 10 con un'altra regolata da 9 unità. Dal relativo confronto è possibile fare tutti i calcoli e la cosiddetta prova del 9. Il regolo calcolatore segue lo stesso criterio, quindi è 9 ciò che consente di pereguare esattamente una dimensione con le altre, multiple o sottomultiple. È il 9, non è C2 il cui valore non è 9, ma è 8,98755 alla dimensione a cui Albert Einstein si è riferito. Ancora a questo punto si fa notare che proprio il genio reputato del secolo scorso si è staccato, non si è reso conto che con le unità di misura tutte obbligate a seguire il sistema metrico decimale cui appartenevano solo il 9 era il sistema invariante perché una unità che esiste nel ciclo di 10 unità se si muove in tutto si muove di altre 9 unità come la sua perché 1 più 9 uguale 10 invece cari amici 1 più 8,98755 non è uguale a 10 è uguale a 9,98755 e evidentemente vi rendete conto che alla condizione espressa da Albert Einstein manca qualcosa egli si è staccato dal principio fondamentale della legge quella delle unità inserite nel sistema metrico decimale compiendo una cosa totalmente priva di giustificazioni vedete la fisica modena è rigorosa si avvale proprio del principio fondamentale imposto dai fisici per fare il controllo incrociato su tutte quelle che sono le risultanze reali che sono ottenute attraverso il calcolo secondo il processo che dal particolare sale verso il generale ma se abbiamo discordanze possiamo essere certi quello che è vero è ciò che discende dal generale perché se procedendo dal particolare verso il generale non arriviamo all'intero ma manca qualcosa ecco dobbiamo sapere che non è tutto ma manca proprio qualcosa alla relatività ristretta di Albert Einstein manca dell'energia essa non è tutta quanta l'energia di una massa non è tutta quanta l'energia di una massa